Pane al pane su Radio Lombardia e Lombardia Channel Ora Regione Lombardia Stefano Buffani per il Movimento 5 Stelle Buonasera Stefano, ben ritrovato e grazie anche a Enrico Brambilla PD Buonasera, benvenuti a entrambe Allora partiamo direttamente come sempre peraltro dal collegamento delle 19 con la lettera 43.it Per dare un po' una panoramica sulle notizie del giorno La voce dalla redazione è quella di Sergio Colombo A te Sergio Buonasera Laura Buonasera, partiamo dal bandone? Saccomanni, privatizzazioni? Sì, io direi di sì perché comunque è un annuncio importante Un annuncio atteso di cui si era parlato tanto a novembre E poi era caduto un po' nel dimenticatoio Causa discussioni su legge elettorale eccetera Però insomma oggi Saccomanni è tornato a parlare di privatizzazione L'ho fatto con toni certi, non più ipotetici come quelli di Dimenticatoio Che ha dato un nome che è quello di poste italiane e un numero che è quello del 40% Quindi domani in consiglio dei ministri arriverà appunto questo decreto privatizzazioni Che conterrà appunto la vendita del 40% di poste italiane a privati Questa è la notizia diciamo delle ultime ore Anche se come dicevi tu non nasce dal nulla ma anzi si era semmai interrotta Dopodiché si torna a parlare oggi della legge elettorale La legge elettorale sembra superato quello che invece ieri sera era la notizia L'ultima ora ovvero il blocco, il salvalega insomma Così era stato un po' titolato Quindi quella entrata è uscita di scena in tempo reale E c'è tutta un'altra serie di reazioni invece proprio intorno a quello che dovrebbe essere il famoso Italico Esatto, diciamo che oggi le novità principali sono tre Una riguarda la data ovvero quella del 29 gennaio in cui in aula si inizierà a discutere del testo Le altre due sono reazioni più politiche Una arriva da Grillo il quale ha urlato al complotto Ha detto che l'Italicum è stato messo a punto da Renzi e Berlusconi per fermare il Movimento 5 Stelle L'altra più concreta se vogliamo Arriva dalla minoranza del PD Che ha messo a punto un testo con eventuali modifiche alla legge preparata da Renzi e Berlusconi I punti sono insomma quelli di cui già si era parlato alla direzione su cui Cuperlo poi dimesso si aveva manifestato qualche perplessità Ovvero le liste bloccate che secondo la minoranza del PD dovrebbero far posto alle preferenze La soglia per il premio in maggioranza che è al 35% e secondo la minoranza del PD dovrebbe essere più alta E poi la soglia di sbarramento per le forze coalizzate che è all'8% invece secondo la minoranza del PD dovrebbe essere più bassa Questo testo verrà sottoposto domani alla riunione del PD e i Cuperliani, Civatiani, Versagnani eccetera sperano che possa tradursi in un emendamento Però tutto dipenderà dalla riunione di domani Certo, quindi vediamo se si manterrà così o niente oppure se verrà considerato questa controproposta La chiamerei così insomma Esatto, diciamo che il tutto niente è più l'appello di Renzi A mio modo di vedere è difficile che il testo resti questo Anche se come abbiamo detto i giorni scorsi comunque è arrivata la firma anche del nuovo centrodestra Dopo l'ok di Forza Italia e del PD Quindi insomma a numero di voti il testo è blindato Bisogna vedere se Poi lo è anche negli equilibri, nei malumori, nei rumors, nei malcontento Bisognerà valutare anche questo Certo, grazie, grazie alla redazione di Lettera43.it, grazie a Sergio Colombo E ritorniamo in diretta con i nostri ospiti E partiamo proprio un accenno perché entrambi fanno parte di questo ultimo ragionamento Che ci faceva come partiti intendo dire Sergio Colombo Perché una parte del PD proporrà questo altro testo E poi c'era l'altro secondo intervento che veniva proprio dal Movimento 5 Stelle Quindi volevo sapere una vostra opinione Anche se volete tornare un attimo indietro comunque di questo incontro Di questa coalizione Renzi Diceva l'altro giorno sull'incontro con Berlusconi Ironizzava, dice con chi dovevo parlare con Dudu, famoso cagnolino Perché comunque finché non lo tolgono loro È l'idea di quella forza politica Per cui io con lui dovevo parlare Insomma, quel è il suo pensiero Brambilla e come la vede questa Voi due che siete entrambi stati eletti con le preferenze Per questo insomma Prego Brambilla Guardi, io intanto sono abituato ovviamente a esprimere un giudizio Nel momento in cui c'è il testo vero con articolato Perché è troppo spesso Dai dai, se ne sta abbastanza Sì, se ne sta abbastanza Però, attenzione, soprattutto in materia elettorale Il diavolo sta nei dettagli Quindi fermi i principi che possiamo tutti quanti condividere Poi come questi principi vengono tradotti effettivamente in articolato Può il giudizio cambiare in maniera molto rilevante Ci ho detto E compreso anche che naturalmente questa legge È il risultato di un accordo tra forze diverse Che probabilmente partivano Anzi, senza probabilmente Sicuramente partivano ciascuna Da ipotesi ancora differenti Per quanto mi riguarda Io nutro ancora delle forti riserve Rispetto al risultato che è uscito E dalla proposta Quindi che oggi Qualche modifica come domani verrà portata A lei piacerebbe Che le richieste di miglioramento Che sono state richieste da una parte Del Partito Democratico Vengano portate avanti Anche perché Così come è stata formulata Francamente questa proposta Rischia un'altra volta Di incorrere nelle censure Della Corte Costituzionale Perché se è vero Che andiamo di fronte A dei listini Più corti Quindi La possibilità dell'elettore Di scegliere Il proprio rappresentante È sicuramente Meglio riconosciuta Con un listino Di 3, 4, 5 persone Piuttosto che non Gli attuali listoni Lunghissimi E' altrettanto vero Che congegnando poi La ripartizione Del premio di maggioranza A livello nazionale E non a livello Delle singole circoscrizioni Il rischio che Il voto Suo Mio O di Buffagni Nei confronti Di un Proprio Auspicato Rappresentante Poi in realtà Vada a eleggere Un rappresentante Invece Messo in lista In un'altra zona Del territorio nazionale E quindi Il mio voto Conosciuto Mi priva Effettivamente Di quella Possibilità Di rappresentanza Così come Anch'io ritengo Che Il premio di maggioranza Mantenendo così Bassa La soglia Del 35% Finisca Alla fine Per Avere un effetto Distorsivo Nella effettiva Rappresentanza Della scelta Dei cittadini Certo Della scelta Degli elettori Questa è la voce Di Enrico Brambilla PD Regione Lombardia Sempre Regione Lombardia Buffani 5 Stelle Prego Stefano Partiamo dal presupposto Che è un tema Che non ci tocca Direttamente Proprio perché Siamo in Regione Lombardia Condivido Quanto ha detto Il collega Nel senso che Bisogna parlare Di provvedimenti Presentati C'è un Parlamento Ci sono delle persone Pagate in Parlamento Per discutere di questo E riteniamo sia Quanto mai Scorretto Discutere al di fuori Cioè non è normale Che sappiano i giornalisti Le proposte Per area A voce E non In provvedimenti Presentati in Parlamento Che è la sede opportuna Quanto Cioè Premesso questo È chiaro che nel momento In cui Renzi va Da Berlusconi È evidente che Sta cercando di fare E parla di bipolarismo È evidente che sta cercando Di tagliare fuori qualcuno Che può essere scomodo Che è una forza politica nuova Che sono dei cittadini onesti Che evidentemente Non si stanno Adeguando al palazzo Ma continuano le loro battaglie Quindi noi Questo è quello che riteniamo Tra l'altro Il Movimento 5 Stelle Sta votando online Per la prima volta Infatti volevo chiederle questo Senza intervenire Su che sistema elettorale Proporre come forza politica La prima votazione È stata fatta su Maggioritario proporzionale Ha vinto il proporzionale Adesso siamo nella fase In cui vengono spiegati Gli step successivi Quindi il collegio Nominale Nazionale Insomma le varie opzioni E poi si voterà Il secondo step Quindi chiediamo ai cittadini Di esprimersi Però prima di farli esprimere Gli diamo le spiegazioni Di quali sono le opzioni Sul tavolo Perché per poter Decidere Devono essere informati Certo Poi è chiaro che E su questo Questo intervento Che Vede L'Italicum Una precisa Manovra Per sostenere I due poli E eliminare Il Movimento 5 Stelle Che non avrebbe Piccoli satelliti Piccole coalizioni Come dichiarato Da Grillo Assolutamente Io confermo E tra l'altro C'è un problema Allora Quando il Movimento 5 Stelle Diceva che puntava Il 51% Ci davano dei dittatori Dicevano Ah cosa volete fare Invece oggi Qualcuno Col 35% Vuole avere Il 55% Dei seggi È quasi un eroe Democratico Allora non condividiamo Questo modo di ragionare Il Parlamento Ha delle regole Oggi Quello che ci dimentichiamo È Che noi siamo In una repubblica Parlamentare Non presidenziale Quindi ci sono C'è tutto un sistema Previsto dalla Costituzione Di come deve funzionare Il Parlamento Noi non abbiamo Il premierato L'abbiamo trasformato Mediaticamente E noi questo sistema Non lo condividiamo Perché non è la legge Siamo Siamo Retrogradi Probabilmente Vogliamo rispettare le norme Le studiamo O si cambiano O certo O quelle che ci sono Non vengono mantenute Infatti Si fa riferimento Anche nell'intervento Di Grillo Al grave silenzio Del Colle E quindi appunto Al Presidente Sottolineando poi Ancora La scelta Delle preferenze Questo è il virgolettato Questo è il virgolettato Appunto Che riguarda Beppe Grillo Allora sentiamo Nicola Poi andiamo In pubblicità Per noi E Poi voglio parlare Anche Di una serie di cose Che riguardano L'economia Alla finanza L'equitalia Che porta Un'operazione Di sanatoria Con zero interessi Per multa e bollo Purché Si chiudano le cose Entro il 28 di febbraio Una specie di Di amnistia Insomma Più che altro Una presa in giro E infatti io la vivevo Guardi La vivevo Allo stesso momento In maniera identica Per cui tra poco Parleremo anche di questo Oltre che Di tutta quell'indagine Che è stata fatta Sull'evasione fiscale Sempre notizia di oggi Nicola Buonasera Buonasera Laura Buonasera Buonasera ai suoi ospiti Anche da noi Laura Laura A noi Le tasse Che ci tartassano Ai boiardi di Stato Il 47% in più Di aumento Sui loro stipendi Che sono Oltre i 140 mila euro All'anno Hanno avuto Parecchi 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 Che fanno parte Della presidenza Del consiglio Letta Aumenti Spropositati A noi Le tasse A loro I boiardi di Stato Questi Spaventosi aumenti Sono da schifo Questi qua Se ne devono andare via Tutti a casa Se ne devono andare Va bene Nicola Grazie E' riuscito a sistemare L'IMU Che mi ha chiamato L'altro giorno E' domani L'ultimo giorno Cosa L'ultima cosa E ti faccio Allora 12 persone Per i navigli A Milano Costano Più di un milione Di euro Quanto prendono L'anno questi qua Per guardare i navigli Laura Grazie Nicola Mi fermo qua Ciao Laura Grazie 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 Nicola Grazie a te Laura Pubblicità Pubblicità per noi Come dicevamo E poi tra poco Di nuovo in diretta 02-688-4230 Di nuovo la voce Prima di tornare in studio Alla Cigella Lombardia Con Mirco Rota Due segnalazioni Un'emergenza ancora Li licenziamenti A gennaio 662 esuberi Sulla Lombardia Parliamo del settore Metalmeccanico E abbiamo anche Un appuntamento Domani al Ministero Dello Sviluppo Economico Per la Franco Tosi Una delegazione Di 50 lavoratori Sarà in partenza Da Legnano Per realizzare Un presidio Di fronte Al Ministero Buonasera Rota Buonasera Buonasera a voi Grazie Allora La Tosi Domani si muoverà Verso il Ministero Quindi Sì È previsto L'incontro Alle 11 È un incontro Che abbiamo chiesto Noi Certo Siamo estremamente Preoccupati Di come si sta procedendo Non a caso Chiederemo Sia al Ministero Che al Commissario Di dare una svolta A questa situazione Servono decisioni precise E tempi certi Cosa che in questi ultimi Tre mesi Non abbiamo mai visto Perché non stanno ricevendo Il compenso Della Cassa integrazione Quello è un ulteriore problema Da settembre Non prendono un centesimo Perché non c'è il decreto Che approva Sono sei mesi Quante famiglie Quante persone coinvolte Stiamo parlando Di quasi 250 lavoratori Quindi circa 250 famiglie 250 famiglie Certo Da settembre Non prendono un euro Io parlo Non parlo di famiglie Non di lavoratori Perché vorrei Sempre far capire Che dietro una persona C'è poi un altro mondo Che sta al fianco E questo è C'è un contesto familiare Dietro un posto di lavoro Esatto Esatto Vorrei davvero dire A chi governa questo paese Di medesimarsi Un attimo In una situazione del genere Che non prendono stipendio A settembre È una condizione Difficilissima da reggere Soprattutto per chi guadagna 1200 euro al mese È chiaro È chiaro Che magari Sicuramente Con la crisi Già dato fondo A quel poco che aveva Poi invece L'altra visione Che si allarga Si allarga Sempre in maniera Purtroppo negativa Con notizie Pesanti Gennaio 662 Uberi sono in Lombardia Si sono in Lombardia Sono i metalmeccanici Delle medie e grandi imprese Quindi poi Dobbiamo considerare Gli artigiani Certo Dove ce ne saranno Purtroppo altri È un numero altissimo Diciamo che Da questi dati La lenta ripresa Ci sarà anche Ma per gli economisti Perché Qui Almeno si fosse È vero? Sì Per chi fa Ricerche Studi Ma nella pratica E nei luoghi di lavoro Non si sta vedendo assolutamente Cioè non si traduce Diciamo In occupazione Posti di lavoro Assunzioni Purtroppo Purtroppo Rota Che cosa Cosa possiamo dire Qual è Qual è Il messaggio Che vogliamo dare Alla politica Attenzione alle industrie Dare più Un piano industriale Al lavoro Siamo sempre lì No? Secondo me La politica Dovrebbe davvero Favorire nel concreto Quegli imprenditori seri Che vogliono davvero Investire in Italia E fare operazioni Di rilancio Cosa che non sta succedendo Perché si sta parlando Di tutt'altro E l'altra cosa Che dovremmo fare È rafforzare Purtroppo Lo dico A malincuore Gli ammortizzatori sociali Quando il lavoro Non arriva Purtroppo Un lavoratore Deve comunque vivere Di poco lavoro E serve Ad esempio I contratti di solidarietà Cioè gli strumenti Che gli permettano Di vivere Aspettando la ripresa Perché se no Il lavoro Non è colpa sua Perché non si crea Non si determina Non sicuramente In questo periodo Per molti Davvero Anzi È un incubo L'idea di poter O perdere O di trovarsi In una situazione Di difficoltà lavorativa Perché non è il problema Di perdere un posto di lavoro Che magari Aveva un suo senso Ben preciso Ma è di potersi poi Ricollocare Per cui è una doppia E' una doppia perdita Come dice appunto tu Se uno oggi Perde un posto di lavoro C'è proprio Una situazione drammatica Perché non lo trova più Esatto Perché non c'è occasione Lavorativa fuori dall'azienda In cui diciamo così Oggi sta lavorando Quindi È proprio drammatica Questa situazione Grazie Grazie Mirko Buon lavoro La voce Era quella Della segretario generale Della FIOM CGL Lombardia Mirko Rota Grazie ancora Grazie a voi Ecco Partiamo da qua Visto che Ha fatto delle riflessioni E io volutamente Le ho chieste A Mirko Rota Su quello che è la politica Ha visto che Regione Lombardia Comunque Esattamente Su questi temi È intervenuto Mi ricordo Anche C'eravamo forse Sentiti proprio Con Brambilla In collegamento Telefonico Sul Sul discorso Degli ammortizzatori Sociali E Invece Dei Di un modo diverso Di poter intervenire Con dei salari Che si potevano Suddividere Ma che Lavorare meno Lavorare tutti Insomma Partiamo da Brambilla Poi sentiamo di nuovo Stefano Prego Sì tra l'altro Noi stiamo Proprio in questi giorni Lavorando Anche stamane Eravamo in seduta Di commissione Insieme Su un progetto Di legge Molto ambizioso Che stiamo portando avanti In Regione Lombardia Che dovrebbe Arrivare in aula Per l'approvazione Entro la metà Del mese di febbraio È un progetto Di legge Che si propone Di sostenere La competitività Delle imprese Lombarde Con l'obiettivo Innanzitutto Di attrarre Sul nostro territorio Nuovi investimenti E nuova occupazione Però il punto è che Prima di attrarre O meglio Accanto Diciamo A questa capacità Di attrattività Da svolgere Attraverso Una serie Di azioni Di cui La Lombardia Si sta dotando Dal punto di vista Sia degli incentivi Fiscali Dell'accesso Ai bandi Del credito Della sburocratizzazione Della semplificazione Amministrativa Cioè tutte Misure Che verranno Inserite All'interno Di questo progetto Di legge Dicevo Tutto ciò Va benissimo Anzi noi ci stiamo Lavorando Maggioranza e Opposizione In maniera Mi sembra Convinta E coerente Da parte di tutti Però c'è un tema Che noi nel frattempo Non possiamo perdere Quello che abbiamo Cioè non possiamo pensare In sostanza soltanto A essere più attrattivi Verso nuovi investimenti E nel frattempo Non fare nulla Sulla desertificazione Che si sta creando Nella nostra regione Noi praticamente Ogni giorno Ogni settimana Riceviamo Delegazioni di lavoratori Oggi sono venuti Ad esempio da noi I lavoratori Del Key Carrier Che è un marchio Storico Nel settore Del condizionamento Che fino a pochi anni fa Occupava nello stabilimento Di Villa Santa Mille persone Oggi sono ridotte A meno di 250 Hanno aperto Il 9 di gennaio Una procedura di mobilità Perché l'azienda Intende trasferire Nella Repubblica Ceca La propria produzione E quello che comprendiamo È che questo trasferimento È legato Non tanto direttamente Al costo del lavoro Quindi a quanto percepiscono I lavoratori Ma ha un costo di sistema Generale Che comprende tutta una serie Di fattori Rispetto ai quali Noi dobbiamo intervenire Che vadano dall'energia Al costo appunto Della burocrazia Poi abbiamo la burocrazia Abbiamo le difficoltà Le tassazioni Quello che dobbiamo riuscire a fare Alcune cose Ribadisco Dentro questo progetto di legge Ci stanno Soprattutto dal punto di vista Della semplificazione amministrativa Riteniamo che La nostra regione Possa diventare davvero Un punto di riferimento A livello nazionale Però Dobbiamo Naturalmente Poi questi Provedimenti Metterli in filotta Con quanto sta avvenendo A livello nazionale Nazionale Se no Non si va da nessuna parte Le do la parola subito Buffagni Tra un attimo Sempre su questo tema Abbiamo Enzo In collegamento telefonico Buonasera Enzo Nostro ascoltatore Buonasera Volevo dire questo Si è parlato di flessibilità Da parte di Renzi Per quanto riguarda Il mondo del lavoro Nei giorni scorsi Secondo me È un tema Giusto da affrontare Si Anche in confronto Semplicemente Con le altre nazioni Europee Poi dopo Volevo fare Una Una discussione A più ampio raggio Prego Tutta l'industria europea In crisi A parte la Germania Allora io mi Chiedo Siccome la cima La Cina va A un tasso Di Come dire Di crescita Del 7 10% Ogni anno E noi ogni anno In Europa Vediamo che le cose Non vanno molto bene Io mi chiedo Alle tasse doganali In Europa Chi le decide Le decidono Le aziende Multinazionali Che vanno A investire In Cina Perché Noi Cosa dobbiamo fare L'abbigliamento Non la possiamo più fare No ho capito benissimo Quello che lei sta dicendo Perché avevamo avuto Diversi collegamenti Anzi Le anticipo che dovrebbe essere In diretta domani con noi L'onorevole Muscardini Che è un ero parlamentare E aveva seguito Proprio in rapporto A una serie di tassazioni Che riguardavano la Cina Poi il contro ricatto Rispetto alla tassazione Di nostri Di nostri materiali Quindi quello che lei Sta dicendo Ne abbiamo parlato Ha un suo senso Ben preciso È molto definito Quello che sta Sta dicendo Certo Credo che Non so chi lo decida Il frattempo Comunque magari Adesso Io torno A altre domande Enzo No no Però penso che sia Molto grosso Il problema E no È molto grosso Sicuramente Sicuramente Perché Ma le dico di più Ci sono anche Delle tasse Molto diverse All'interno Dell'Unione Europea Rispetto alle nostre Esportazioni E rispetto invece A quello che importiamo Ovvero Che diventano Dall'altra parte Esportazioni Da altri paesi E anche questo Non aiuta Le nostre imprese Per cui sì È un argomento Molto delicato E molto importante Ci arriviamo Perché Noi Possiamo fare Anche Tutti I ragionamenti Che vogliamo Per aiutare Le persone Che sono in difficoltà Ma se non si fa ripartire Non si aiuta le industrie Certo Certo È non Chiaro Grazie Grazie Enzo Allora Nell'ordine Perché abbiamo In regia La linea da dare Alla nostra redazione Quindi a rientro Sentiamo subito Buffagni Sia per il ragionamento Che abbiamo fatto In collegamento Con la CGL E anche su quello Che diceva Enzo E poi Ritorniamo a rispondere Sempre a Enzo Anzi Anche con la voce Di Enrico Brambilla Quindi La linea a Filippo Colombo La nostra redazione Le ultimissime Poi di nuovo Tra pochissimo In diretta In studio Grazie Laura Buonasera Dalla redazione Sono 45 Gli indagati Nell'inchiesta Rubi Ter Aperta a Milano In seguito Alla trasmissione Degli atti Da parte Dei due collegi Del Tribunale Di Milano Che hanno giudicato Rispettivamente Silvio Berlusconi Lele Mora Emilio Fede E Nicole Minetti Si è proceduto Alla dovuta iscrizione Nel registro Delle notizie Di reato Dice il procuratore Della Repubblica Di Milano Edmondo Brutti Liberati Indagati lo stesso Berlusconi Oltre ai suoi Avvocati Ghedini e Longo E la stessa Carima El Marug L'accusa E di avere corrotto I testimoni Quarta soluzione Per il senza tetto Bresciano Che sta subendo Una serie di processi Per avere violato L'obbligo di dimora Su una panchina Oggi l'uomo Ilario Bonazzoli 43 anni Era in aula Al Tribunale di Brescia Dove è stato processato Con rito abbreviato Per un'altra evasione Tra virgolette Che risale al 2012 E' stato assolto Perché il fatto Non sussiste Non sono Un clochard per scelta Detto l'uomo Durante il processo Se avessi un lavoro E una casa Potrei condurre Una vita normale Bonazzoli 43 anni Attualmente in carcere A Ivrea Per un cumulo Di una serie di condanne Per furtarelli E altri piccoli reati Una donna incinta E' morta schiantandosi Con la propria auto Contro il muro Di cinta Di una villetta A Cinisello Balsamo Inutili tentativi Di salvare il bimbo All'ospedale Niguarda Di Milano E' successo ieri sera Nel centro storico Di Cinisello Secondo la ricostruzione Della polizia locale La donna Di origini cubane Già madre di due bambini Di 12 e 13 anni Avrebbe perso il controllo Della sua Toyota Yaris Per cause ancora In via di accertamento Lungo via Robecco Finendo per abbattere Un albero E un palo della luce Prima di terminare La corsa contro il muro La donna è morta Prima del trasporto A Niguarda Dove si è purtroppo Inutilmente tentato Di salvare il feto Sono più di 70 mila Le imprese lombarde Che stanno già lavorando A progetti connessi A Expo 2015 Emerge da una stima Condotta dalla Camera di Commercio Di Monza e Brianza Su oltre 900 imprese lombarde In prima linea Milano Dove il 12% delle imprese Ha già in essere progetti O commesse Legati all'esposizione universale Seguono poi Varese E la stessa provincia Di Monza e Brianza È tutto per ora Laura Te di nuovo la linea Grazie Grazie Filippo Colombo E di nuovo In diretta Come avevamo promesso Stefano Buffani Movimento 5 Stelle Sul tema lavoro Abbiamo sentito la voce Dei meccalmettanici Rappresentati da Mirco Rote E anche la voce Di un cittadino Penso che ci faceva Un discorso Proprio sul Dar aiuto alle imprese Che possono fare Legato all'Europa Prego Sì Io partirei dall'ultimo Almeno rispondo al cittadino Assolutamente Io condivido la riflessione Che ha fatto Nel senso che I dazzi sono una valutazione Da rimettere in discussione Perché insomma Chi è che decide questa cosa? È il World Trade Organization Che anni fa Ha deciso questa Liberalizzazione Perché ha incentivato Andare a produrre in Cine In modo tale Che per portare Poi la merce Qua in Europa Negli Stati Uniti Si potesse Pagare pochissimo Per importare la merce Per aumentare i profitti Di quelle multinazionali Che hanno iniziato A delocalizzare Quindi questo è un processo Che è stato iniziato Anni fa Si parla più di dieci anni fa E oggi noi stiamo pagando Il conto Infatti noi anche In vista dell'Europa L'abbiamo detto Noi valuteremo L'ipotesi di Rintrodurre i dazzi Comunque fare qualcosa Per tutelare Le nostre merci interne Nel caso che citava Però prima Il collega Brambilla L'azienda va In Repubblica cieca Quindi insomma Non stiamo parlando Di un'altra parte del mondo Quindi è molto più vicino Noi ci siamo informati Ad esempio in Slovacchia Quando incentivano le aziende Gli dicono Se tu fai un investimento Di 5 milioni Ti diamo un credito E un imposto Del 50% E allora le abbiamo detto Ma com'è possibile Per il problema dei de minimis Dare questi incentivi fiscali Alle aziende Che non siano aiuti di Stato Loro dicono Che usano i fondi europei E sono tutta una serie Di incentivazioni dei credito Quindi Quei fondi Che noi oggi In Italia Non riusciamo a usare complessivamente Potrebbero essere usati Come vaccino Come soldi da recuperare Anche perché Noi ne diamo parecchi in Europa E poi ne sprechiamo altrettanti Noi riteniamo Che siano soldi Che hanno pagato gli italiani E dobbiamo ottenerli qua E tutelarli Poi per quanto riguarda Gli interventi sul lavoro Sì Il contratto di solidarietà L'abbiamo lavorato insieme Su questo progetto di legge E noi siamo stati molto felici Perché insomma Noi giovani Nuovi Che siamo riusciti Comunque insieme agli altri Perché è stato provato L'ananimità A raggiungere questo obiettivo È importante Stiamo lavorando anche a Roma In merito Al rilancio delle aziende Bisogna ricordarsi Che in Italia Il 90% delle aziende Sono piccole e medie imprese Quindi Bisogna aiutare E tornare a Non considerare I imprenditori Come degli evasori a priori Cioè Bisogna rendersi conto Che il fisco Deve essere amico Perché noi prendiamo Ad esempio gli altri stati Ma poi ci dimentichiamo Tutta una serie di variabili Ovvero che in Italia Si parte il presupposto Che il cittadino Ha rubato E deve dimostrare Che non è così Quindi Noi riteniamo Che lo stato Deve essere dal lato Dei cittadini Anche perché lo foraggia Per l'energia L'energia costa tanto E noi è da anni Che ci battiamo Per cambiare Il sistema energetico Cioè Abbiamo La luce Abbiamo il sole Potremmo In Italia Potremmo fare Una marea di cose Potremmo iniziare da lì Ogni casa E che poi si perde il controllo Qui c'era qualcuno Che voleva fare Il centrale nucleare Abbiamo visto in Giappone Cosa è successo E oggi Ci sono ancora Gravi problemi Insomma bisogna provare A guardare le cose In un'ottica diversa Piccolo e bello Non è una cosa così negativa Bisogna fare sempre Le mega cose Chi ci obbliga A prendere Il petrolio della Russia Chi ci obbliga Insomma possiamo anche Rivedere tutto L'impianto Del sistema energetico Italiano Poi ci sarebbe Da parlare per ore Di questi temi No certo Sicuramente Stefano Buffagno Movimento 5 Stelle Brambilla Se voleva aggiungere qualcosa Al nostro ascoltatore Su questo tema Sì Su la questione Il reintrodurre Maggiori dazzi doganali Per proteggere I nostri prodotti Dazzi ci sono E decisioni non arbitrali Insomma Comunque non di parte Allora qui credo che sia Un tema da maneggiare Con molta cura Evitando da un lato Gli eccessi Iper liberisti Che pensano che Il fatto di togliere Qualsiasi vincolo Agli scambi Nel commercio mondiale Posso far fruttare Miracoli Esattamente Dall'altra parte Dobbiamo stare attenti Anche dal punto di vista Della tutela Della nostra produzione Naturalmente Al fatto che Come noi Li possiamo mettere Dazzi O vincoli All'ingresso Delle nostre merci Ugualmente Lo possono fare Gli altri E soprattutto I cinesi Dall'altra parte Lo fanno Molto abilmente E poi Quello È un mercato Molto ampio Dove Certo Dove Anche Nostro Interesse E anche Interesse Di molte Anche Nostre imprese Pensiamo Soltanto A tutto Il settore Dell'agroalimentare Infatti L'ultima occasione Di scontro Diciamo così Tra Le nostre autorità E quelle cinesi Venne proprio su questo Perché loro A fronte Di una nostra Irrigidimento Sull'importazione Di Manufattura Soprattutto Pannelli 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 Subito Opposero Il fatto Che avrebbero Alzato Di molto I dazzi D'ingresso Dei nostri vini E dei prodotti Alimentari Quindi Ne avremmo Probabilmente Sofferto Più di quanto Invece Avremmo potuto Guadagnarne Quindi Diciamo Si chiama ricatto In altri settori No 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 Nella politica mai Ma diciamo Che nella vita comune Diciamo Si chiama Chiaramente Il fatto Che ciascuno Cerca di tutelare I propri interessi Noi dobbiamo Dobbiamo essere abili A cercare di farlo Abbastanza bene Per noi Sapendo che In linea di principio La libera concorrenza Il libero scambio Può essere anche un elemento Che incentiva Certo Assolutamente Chiara La concorrenza Diventa A cercare di essere Competitività Però se c'è meritocrazia Però invece ci sono i furbi Soprattutto che ci sia reciprocità Perché Il problema vero è che Il dumping che loro fanno È sul fatto di non rispettare Poi tutte quelle tutele Nel mondo del lavoro Che invece noi Giustamente Io dico Continuiamo a mantenere Nel momento in cui Anche in Cina Ci fossero Le stesse Attenzioni Rispetto alle condizioni Di vita E di produzione Dei lavoratori Probabilmente Sarebbe anche molto più difficile Per loro competere Allora Abbiamo sì Ancora tempo In questo stesso blocco Io volevo tornare Proprio sul concetto Che si diceva prima Una battuta Sulla sanatoria Che propone Equitalia Al Zero interessi Per multe E bollo Rottamazione Delle cartelle È una battuta Del Corriere della Sera Possibile mettersi in regola Entro il 28 di febbraio Che cosa vuol dire Senza interessi Diceva prima Brambilla Un po' una presa in giro Sì Per quanto mi riguarda Qui parlo Come dicevo Più che da politico Per questo sono ripartita da lei Credo che questo Sarà un provvedimento Destinato ad avere Scarsissimo Appeal E un interesse Molto basso Da parte dei contribuenti Perché Si chiede In sostanza Di pagare Tutto Cioè non c'è uno sconto Di una lira Sul dovuto Quindi L'unica cosa Che viene abbonata Sono gli interessi moratori E però A fronte di questo Si chiede che tutto Venga sanato Entro il 28 di febbraio Quindi Nella situazione Di difficoltà Di liquidità Senza ralatizzazione Che invece Addirittura È stata Mi sembra aumentata Nella situazione Di assenza di liquidità Da parte delle famiglie E delle imprese Pensare che qualcuno Per vedersi abbonare Qualche spiccio Di interesse Deba trovare Entro il 28 di febbraio È pura illusione Prego Sì Noi siamo L'abbiamo sempre detto Noi vorremmo L'abolizione di Equitalia Perché insomma Ha dei modi Ha delle percentuali Ha dei costi Che ha questo nome così Equitalia Cosa folle Detto questo È anche folle Questo approccio Cioè di cercare In tutti i modi In maniera Proprio improvvisata E senza pianificazione Dei modi Per poter sopperire Alla mancanza Di liquidità Dello Stato Cioè A fine anno È stato chiesto Di dare l'anticipo Sulle imposte Di una percentuale Superiore alle imposte Che i cittadini Devono pagare Adesso pur di fare cassa Ci inventiamo Queste finte sanatorie Beh noi riteniamo Che questa non sia Una cosa da professionisti Se noi paghiamo Come diceva prima il signore Questi dirigenti Tutti questi soldi A Roma Improvvisano in questo modo Per noi È una cosa vergognosa E se noi siamo Quelli improvvisati I professionisti Sono questi Siamo veramente Conciati male In tutto ciò A proposito Di recuperare soldi C'è oggi Una Una riflessione Sui dati Che sono emersi Che sono arrivati Dalla guardia di finanza Per l'anno Appena concluso Quindi per il 2013 Dove si parla Di un'evasione Fiscale Che porta Quasi Sessanta Miliardi Di somme Nascoste Ovvero Redditi non dichiarati Sul fonte internazionale IVA non versata Per 5 miliardi 27 mila Lavoratori Che non essendo In regola Non hanno portato Soldi Dove dovevano arrivare Poi c'è il solito Discorso Del discorso Degli scontrini Uno su tre Ci sono tutta una serie Di dati E di analisi Che portano A questa cifra I dati della guardia Di finanza Portano anche Alla fotografia Di lavoratori In nero Quindi una svolta Se vogliamo parlare Di evasione Che mette insieme Dati diversi Lei ha detto La voce del commercialista Ma anche la voce del PD In questa evasione Prego Questi dati hanno poi Un problema principale Che quelli che poi Questi fotografano Quella che è L'evasione Supposta Stimata Certo Poi da qui All'evasione Effettivamente Accertata E soprattutto Al arrivare All'evasione Effettivamente Punita C'è una distanza Abissale Cioè Sarebbe molto interessante Magari Di qui A un anno Ritrovarci E capire Di quei 60 miliardi Che la Guardia di Finanza Oggi Ha annunciato Di avere scovato Quanto sia stato Recuperato In termini Di tassazione Effettiva Da parte Dell'Agenzia Delle Entrate Questo perché Innanzitutto Qui sono Spesso metodi Di natura Presuntiva E servono In particolar modo Anche per Lanciare Dei messaggi Purtroppo Quasi autopromozionali Rispetto All'attività Che viene Messa in campo Dall'altra parte Questo È un fenomeno Naturalmente Che Quando si comincerà Davvero La lotta L'evasione Perché io non credo Non sia mai Davvero Cominciata Perché abbiamo Una tecnologia Che Guardi Ormai La tecnologia Può Che dice Che cosa mangio io Se sono single Che cosa compro Se mi piace più La carne e il pesce Dai Se fanno una fotografia Su di me Le sanno di più Il punto è che ci si sta però Troppo orientando Sulla micro evasione Che esiste sicuramente Non la possiamo negare E non sulla macro E non sui grandi Fenomeni Evasivi Che sono quelli Che contraddistinguono Sicuramente innanzitutto La grande finanza internazionale Con tutto ciò che ne consegue Sia in termini di sottrazione Di risotto Ce lei mi sta dicendo Ci si concentra sul piccolo Perché Sul grande Purché illegale Non conviene a nessuno Perché è molto più difficile Solo Adesso è molto più facile Utilizzare lo spesometro E tutti i dati Che verranno ora Utilizzati per Ricalcolare Le nostre Capacità di reddito Però Ancora una volta Sulle persone Sulle imprese Sulle grandi sistemi Molto più puntuali Ci auguriamo Che L'attività Della guardia di finanza Sempre più Venga rivolta Verso questo Certo In maniera libera Gli lo lasciano fare Buffani Il Movimento 5 Stelle Io Parto dalla premessa Sfortunatamente Sono un po' più giovane Ma sono anche un commercialista Quindi ti tassi qualcosa Non sapevo Chiedo scusa No ma no Assolutamente Però Noi riteniamo Alcune considerazioni Nei rivoli di questa norma Così complessa Si scappano sempre Bisogna semplificare Ma non bruciando in piazza Delle norme Facendo il cinema Portando i giornalisti Cioè Bisogna rendere più semplice Il fisco Più semplice Più facile Dove è più difficile scappare Cioè noi quando parliamo Di semplificare le cose Perché è una cosa semplice È una cosa più Facile per tutti Lo diciamo Non perché siamo dei geni Scopriamo l'acqua calda Perché abbiamo visto Che ad esempio La normativa fiscale È un incastro di norme Che quindi c'è La possibilità di eludere E l'illusione È molto più difficile Da combattere Senza dimenticare Che molta dell'evasione Al di là delle multinazionali Che spesso fanno Una pianificazione fiscale Internazionale Quindi lì Ci facciamo la guerra interna In Europa Abbiamo degli stati Che hanno una fiscalità Più bassa Però non possiamo Limitarne Lo scambio Quindi tutto Un problema di questo genere Abbiamo anche la Malavita organizzata Questo non bisogna Dimenticarselo E questo è un problema grosso E non è Togliendo i contanti Che risolve il problema Perché non condividiamo Neanche questo Perché comunque I cittadini Devono anche essere liberi Di non essere ostaggio Delle banche Perché questo è un problema Che vivono tutti Però al contempo Bisogna andare a combattere La malavita Cioè soltanto di corruzione Crediamo che in Italia Ci sia uno sperpero Dei soldi folli E anche gli ultimi Scandoli recenti Della regione Lombardia Lo dimostrano C'è uno spreco Di soldi pubblici C'è uno spreco Ci sono tangenti Ci sono corruzioni A tutto spiano E qui bisogna intervenire Cambiando anche la mentalità Mettendo norme più semplici E a quel punto Andiamo a controllare Quindi noi riteniamo Sia doveroso Infatti noi in opposizione Facciamo anche questo Sarà possibile Ce lo auguriamo Pubblicità E tra poco Torneremo in diretta Con i nostri ospiti A tra pochissimo Pane al pane Tornare con i miei ospiti Abbiamo un collegamento telefonico Grazie di essere con noi Manuel Castoldi Presidente di Rete Irene Buonasera Buonasera a lei E a tutti quanti Ecco Una riflessione Da condividere con i cittadini Milanese Energia È grande freddo Questo promosso proprio Da Rete Irene È un'indagine Un'indagine che ha Portato a dei risultati Diciamo Non edificanti Bocciati i cittadini No? Uno su due Non sa quanto spende Ogni anno Per il riscaldamento E sette su dieci Non sanno neppure In che classe di efficienza È la casa Dove vivono Questo vuol dire anche Non risparmiare E poter fare strategie diverse Prego Sì Molto corretto Quello che dice E indubbiamente C'è una Una carenza Di informazione Nel settore Dell'efficienza energetica E nello specifico Della riqualificazione Del patrimonio Immobiliare Esistente È Abbastanza drammatica Nel senso che Purtroppo Non si sono fatti Non si sono dati I corretti messaggi Di informazione Alla cittadinanza Per consentire Alla stessa Di poter Scegliere Scegliere e sfruttare Certo Esattamente Scegliere e sfruttare Se intervenire Con interventi Di riqualificazione E di efficienza Cercando di Trasmettere un messaggio Forte E chiaro Quello Cioè che oggi Investire nella propria casa Investire in efficienza Energetica Significa Poter guadagnare Dalla propria Abitazione Sotto Sotto Del benessere Del confort Abitativo Sono tutti temi Molto importanti E fondamentali Sui quali purtroppo C'è poca informazione Da parte delle istituzioni E Devo dire Ahimè Anche poca informazione Da parte delle categorie Di settore E quindi Mi ci metto Dentro per primo Certo Quindi anche Un discorso Economico Se parliamo di risparmio Ma anche Di attenzione Alla nostro Benessere Al nostro Pianeta Alla Le luoghi in cui viviamo Perché L'alzare Riscaldamenti Autonomi Piuttosto che Sappiamo benissimo Poi che tipo di Riflessioni Ha Anche Sulla Sulla L'effetto clima E sulla salute Credo anche No Per cui Davvero Un'informazione Che Si può fare qualcosa Voi come rete Avete Come rete Irene Avete intenzione Di fare Non so Convegni Locandine Approfondimenti Noi oggi Vi abbiamo dato voce Però Crediamo davvero Che sia un tema Ma ci mancherebbe Crediamo davvero Che sia un tema Importante Dal risparmio Al rispetto Dell'ambiente E anche A quelle che possono Essere le alternative Quindi parlavamo Un attimo fa Dei costi dell'energia Proprio qui in Italia Prego Sì Assolutamente Ci sono Temi che non Vengono trattati Riqualificare Dal punto di vista Energetico Un edificio E un alloggio Non significa Solo risparmio Energetico Che comunque È già invitante Perché tocca il portafoglio È molto invitante Perché tocca il portafoglio Delle famiglie Che ahimè oggi È particolarmente Tartassato Ma significa anche Riqualificare Interi quartieri Significa riqualificare città Significa Significa poter vivere Molto ampio Molto ampio Molto ampio Noi la ringraziamo per l'impegno e il lavoro della direte Irene Grazie presidente La voce era di Manuel Castoldi Buona serata Grazie Buona serata a lei e a tutti quanti Grazie Allora Torniamo in diretta con i nostri ospiti Partiamo da Stefano Buffani Tangentopoli ieri e oggi Perché anche oggi? Sì Sembraio alle 15 Al Pirellone a Milano La data non è casuale La data in cui 22 anni fa partì il processo di Tangentopoli In cui veniva appunto arrestato Mario Chiesa Noi riteniamo soprattutto per i giovani Che sono tanti dei nostri elettori Che è importante conoscere il proprio passato Altrimenti si è condannati a riviverlo Questo perché? Perché è uno scandalo che noi Nei rivoli delle magistrature rivediamo E noi non vogliamo che questo accada Bisogna ricordarsi cosa è successo in quegli anni Come succedevano Perché certi sistemi sono ancora attuali Sviluppati, aggiornati Ma i meccanismi sono gli stessi Probabilmente una volta si incassavano in tangenti per il partito Oggi le persone lo fanno per le loro tasche E noi crediamo che bisogna ridare valore morale A una società che ha perso totalmente dei valori etici Che sono rimasti un lontano ricordo Noi abbiamo invitato alcuni dei magistrati del pool Parteciperanno il dottor Greco Il dottor Colombo Non potrà partecipare il dottor Davigo Perché non può apparire per i prossimi due o tre mesi Perché sta facendo un processo un po' delicato E ci sarà moderare Peter Gomez Il direttore del Fatto Quotidiano Online Anche gli ospiti mi pare siano interessati Sicuramente Ne riparleremo magari sotto data Anche magari solo con un collegamento telefonico E proprio torniamo al tema Che si diceva un attimo fa Sull'on page di CorriereMilano.it Caldai fuori legge Troppe famiglie a rischio Potenzieremo i controlli Ora sul discorso delle famiglie è giusto Due impianti su cinque non sono a norma Questo è il comune Quindi l'assessore Maran Provvederà alle verifiche su molte legalità Ma anche su tutto l'indotto Diciamo quello che non riguarda i cittadini Ma che riguarda Di che competenza? Secondo i vari comuni? Regione ha qualche forma di regia su questo? Dovrebbe averlo È una delle questioni che stiamo da tempo sollevando La necessità che da parte di Regione Lombardia Si faccia finalmente un piano Che cerchi di ottimizzare poi il comportamento di ciascuno Cioè la Regione deve soprattutto coordinare Fare regia infatti Fare regia Adesso non ci saranno più neanche le province Per cui dovete Dare delle indicazioni e delle norme Passo delicato Dare delle indicazioni e delle norme molto chiare Da questo punto di vista Perché ovviamente questo È un tema che non può essere lasciato poi Alle iniziative sia pure meritorie Dei singoli comuni Alle ordinanze dei singoli sindaci Alle attività di associazioni Che Tutto ciò va bene Tutto deve concorrere Però ci deve essere Una precisa capacità di orientamento Da parte della nostra Regione Che parte naturalmente Dal presupposto che Per far questo Ci si deve occupare Non solo In sé della produzione di energia Ma anche molto spesso Nel nostro modo di vivere Di muovere Di circolarsi Il rilancio del trasporto pubblico Verso il trasporto privato Cioè si tengono insieme Tutta una serie di questioni Che devono trovare Nella capacità di Regione Lombardia Una sintesi Molto cinque stelle Questo è la voce di Enrico Brambilla PD